Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video di minecraft quest'oggi ci troviamo nelle bedwars perchè voglio chiedere in chat se qualcuno ha intenzione di giocare con me e vedremo un pochettino che cosa succederà se magari mi carrieranno o se io carrierò loro vedremo vedremo secondo me sarà una cosa molto ma molto interessante Ciao a tutti 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 Ciao a tutti